adesso data parte opposta più correttamente sotto l'ultimo gli utili gli uomini e dentro l'ultimo l'ultimo ok ok stai distante un po' bene bene partezza ottima ok perfetto bene molto bene curva destra prenderla bene buona buona bravi bravi 42 bene 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 Emanuele bravo bravo dai stai sul cavalcavia dai Emanuele fai o te il cavalcavia dai bene 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 Emanuele benissimo calma calma Emanuele stai seduto stai seduto cambia Emanuele cambia adesso cambia cambia vai Mattia vai giù la testa Mattia giù la testa vai andare dai Mattia dai Mattia dai bravo Giovanni bravo Giovanni via Giovanni via Giovanni le curve tagliare è la strada è la strada duro duro riccardo duro riccardo respira Giovanni respira manuele bravo Emanuele bravo ottimo bravo ottimo bravo e andate benissimo 48 bravo Mattia bravo Mattia 50 duro buona 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 sempre calma e sangue freddo bravo Emanuele stai andando come una moto 49 49 50 dirlo pure si bravissimo bravissimo fuori Emanuele bravo Mattia bravo Emanuele aganchati bene respira per la prossima per la prossima tornata bravissimo bravissimo siamo più di metà benissimo benissimo perfetti bene Riccardo dai tieni su le andature Riccardo dai Riccardo duro 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 perfetto Riccardo perfetto bene bene respira se la facciamo tutti e quattro sempre dritti 51 52 state andando sopra i 50 allora grande Emanuele grande buche grandi ragazzi 50 all'ora più di 50 all'ora 54 bestiale dai Mattia sei forte Mattia ormai è finita 50 51